Pronto, Sweet Bologna, sono Matteo De Siboni, gelatria Giannico Montegrappa. Ho sentito che fate gelato show. Si, se lo fate, noi ci siamo. Solo che potevate trovare uno più bello. Ve lo do io, magari. Il festival del gelato, visto che sia la capitale del gelato, noi ci mettiamo in gioco solo per fare una cosa internazionale. Ci fate il carnet per assaggiare e votare anche per noi. Non siamo mica meno dei pasticceri. Mi raccomando, ci conto.